Eccoci di nuovo appuntamento con Container. Quest'oggi parliamo di un film, un lungometraggio che è stato realizzato in Puglia e che vede parecchi protagonisti tra registi, sceneggiatori e attori figli di questa terra. Quindi un esperimento autotto, come si direbbe in altri settori. E allora ne parliamo con il protagonista del film, Il Prete e il Bambino, un film registrato in Puglia. Sabino Matera, grazie per aver accettato il nostro invito. Grazie a voi dell'invito. Sì, è un film made in Puglia, se così lo possiamo definire. È una storia molto bella, è stato un tour de force, se così vogliamo un po' assemblare questo format. Dovete pensare che abbiamo realizzato questo film in 13 giorni. È una cosa pazzesca. Però abbiamo girato anche in tutta l'Italia. C'è da dire un film che nasce da Garavina di Puglia, poi naturalmente ci siamo spostati da Oronzo di Cadore, nelle Dolomiti, Rodi Garganico, Casa Massima. Insomma, 13 giorni. È una vera pazzia. La vera pazzia. Assolutamente sì. Un film made in Puglia, perché? Da chi è composto lo staff? Lo staff. Parliamo del regista, lo sceneggiatore, l'attore protagonista. Sei tu, sei di Andrea. E ne sono anche orgoglioso di avermi scelto. Sì, la sceneggiatura nasce da una storia di Carlo Stragapede, che io saluto affettivamente, un tuo collega. Giornalista della Gazzetta nel Mezzogiorno. La regia di Michi D'Aquino. C'è la partecipazione straordinaria di Mino Barbarese, che lui viene il re duce di grandi successi, come l'Aria Mara, come la Cappagira e tanti altri. Alfredo Navarra, un altro grande attore, che saluto affettuosamente. Abbiamo anche la partecipazione del bambino, che poi tra l'altro è mio figlio, Antonello Bucci. Il papà è Paco Bucci, che sarebbe Lucio il brigatista. E Patrizia Colonna, una ragazza, un'attrice molto brava, di teatro, di cinema. Precisiamo il figlio nel film. Il figlio nel film. Precisiamo questa cosa, perché non voglio che si capisca altro. E tanti altri che comunque hanno lavorato con noi in modo sodo. Com'è nato questo film? Allora, è nato da una storia che Carlo, appunto, ha voluto tirare su. Nasce dalla fine degli anni del brigatista, insomma. Anni di piombo. Anni di piombo. Tra l'altro c'era un blitz, in quel momento, della polizia, che arrestò tutti, tranne la ragazza, questa Patrizia, Deseante, che sarebbe la ragazza che ha avuto una storia d'amore con questo prete, e fugge, fugge dal blitz e si rifugia in questa canonica, dove trova il prete Don Sabino Gramenia, e di lì, nel curarla, nel proteggerla, è nata questa storia. Questa storia che poi porta il frutto di un bambino, che si è amantonello. Dopodiché, insomma, dopo questa storia, l'unico a sapere di tutto ciò che si era, diciamo, visticciato è stato il vescovo, Monsignor Perricci, tra l'altro nel ruolo di Mino Barbarese, che per punizione mi manda da Oronzo di Cadore per 13 anni. Lì poi metto su una grande storia con i catechisti, con tutta la gente che si affeziona a questo prete, e dopo 13 anni mi richiama nuovamente a Gravina per riconsegnare il piccolo dalla mamma. E c'è una grande storia che, insomma, che non voglio ora stare a raccontare, perché, insomma, il film è da vedere. Fermiamoci un secondo, guardiamo il trailer. Il prete e il bambino. Una storia di emozioni forti, profonde, autentiche. Mi hanno chiamato stamattina e mi hanno detto che le armi e i soldi devono essere a Roma stasera, entro le 11. Il prete e il bambino. Un film dove gli affetti veri, sinceri e duraturi superano ogni pregiudizio e nobilitano persino gli errori e i fantasmi del passato. Beh, come va, scuola? Con la partecipazione straordinaria di Mino Barbarese nel ruolo del vescovo. Bravo. I debiti e i conti si pagano fino alla fine. E anche quelli della gratitudine. Ma dai, figlia! Ma che debiti di gratitudine parli? Ricordatele! Io adesso vado via. Ma non finisce qui. Ricordatelo. Non finisce qui! Vediamo che si scivola! Qui, dai! Attenzione, vai avanti, vai avanti. Un tiro indiana, vai! Vai, Lorenzo, vai! Vai, allora, vediamo che piove! Senza correre, si scivola! Don Sabino. Sì? Mi sa che mi sono innamorato. E di chi? Scommetto di quella bambina delle giostre, eh? Non lo so, io. Dimmi, dimmi. Si dice il peccato, non il peccatore. Il prete e il bambino. Una storia di emozioni forti, profonde, autentiche. Il prete e il bambino. Un film dove gli affetti veri, sinceri e duraturi superano ogni pregiudizio e nobilitano persino gli errori e i fantasmi del passato. Un film di Carlo Stragapelle. Regia di Michi D'Aquino. Musiche originali di Giulio Amendolaggini. Prossimamente, sugli schermi. Storia vincente, insomma. E allora, come nasce l'idea di questa produzione? Da chi nasce? Allora, l'idea di questa produzione nasce da Carlo Stragapelle. Lui si è sempre avventurato in queste esperienze. Viene fuori da altre piccole esperienze, ma questa volta ha voluto realizzare questo format un po' più corposo, come diceva lui sempre. Un'idea veramente strepitosa. Io devo ammettere che, insomma, ha avuto coraggio Carlo ad affrontare questa avventura che non è stata facile. Su è la sceneggiatura, poi, mentre alle nostre spalle guardiamo alcune immagini. La produzione, invece, di chi è? La produzione è sempre di Carlo. Ah. È stato autofinanziato personalmente da Carlo. Quindi è una... Eh, ho detto, è una grande avventura, è una grande avventura. Ebbè, bisogna crederci nelle cose. Crederci, sì, sì, sì. Come sono arrivati a Sabino Matera, attore? E questo me lo chiedo ancora. Come sono arrivati, non lo so. Hanno creduto in me. Loro, sinceramente, avevamo già pensato un'altra persona, però hanno avuto questo colloquio, hanno avuto questo incontro con questa persona, non andava genio. E loro, con la regia di Michi D'Aquino, con Carlo, sono un pochettino confrontati. No, ha detto, mettiamo Sabino Matera, perché è un personaggio che riesce a fare dal drammatico, dal sitcom, da ironico, dal... Hanno scelto me. Io ho detto, ma siete sicuri... Vi eravate già conosciuti in altre circostanze. Sì, 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 ho fatto altre situazioni, ho partecipato a altri format. Hanno creduto, hanno creduto. Comunque, la cosa è andata bene. Hanno voluto giocare questa carta. E avevano ragione, insomma. Tutt'oggi ancora mi guardo io, questo possibile che sono riuscito ad interpretare il ruolo di prete, che poi non è facile, Giuseppe. Perché poi ho celebrato una messa con tutti i fedeli, con... E poi recitare con Mino Barbarese, ripeto, non è facile, perché nei momenti di stare su set c'erano delle scene a Gravina dove io mi sono inginocchiato e l'abbiamo ripetuta per ben 20 volte, perché comunque le risate venivano spontaneamente. Potete immaginare. Beh, però, attori più esperti da un lato ti mettono sicuramente in maggiore imbarazzo, inquietudine, ma dall'altro lato, voglio dire, dovrebbero offrire anche una... Sì, è vero, è vero. Questa cosa lo devo ammettere. Un'esperenità maggiore rispetto a... È vero. Ti mettono a loro agio, insomma, c'è tanto da prendere da loro perché hanno un bagaglio di esperienza non indifferente dalla loro vita. E noi siamo attori, come dire, principianti, principianti, così voglio definirmi, perché non voglio illudermi, tanto o meno ho tanto da imparare da loro e spero che, insomma, il mio sogno sia vero di domani. Il tuo sogno di attore. Tu nasci, invece, nell'ambito musicale. Sì, oramai sono anni. Il mio primo lavoro, che ci tengo sempre a precisare, è colui che mi ha dato vita. Ancora tutt'oggi, io lavoro come DJ da 25 anni, giro di largo, di lungo. Il mio lavoro, ben preciso, è quello dei matrimoni. Durante la stagione, insomma, c'è una bella fetta di matrimoni che comunque prendo da Puglia, Basilicata, anche oltre, anche al nord, mi sposto. E dove nasce poi la... come... dalla musica... Al cinema. Sì, come si arriva? Come si arriva? Si arriva alla passione. Rubacchiando. Ho sempre amato, ho avuto sempre quel desiderio di avvicinarmi alla telecamera e da piccolino sempre l'ispirazione di giocarci con i miei amichetti realizzando questi film tra piccoli nostri, queste scene. Diciamo che è una cosa che si tramanda da anni. Pian pianino, pian pianino, pian pianino sono arrivato al punto di... Ecco, il tempo ti premia. Io sono sempre d'accordo che bisogna avere fede in una cosa, bisogna crederci, come tu hai detto un tempo fa e se credi stai pur certo che arriva. Oggi sono protagonista, come vedi. State pensando c'è già qualche altro lavoro in corso? Sì, allora lo devo annunciare perché con piacere lo dico e sarà realizzato Il Prete 2 una storia molto, molto più, più, più più carica di emozioni una storia con momenti caldi e non voglio appena annunciare altro perché insomma ci stiamo lavorando su. Adesso stiamo pubblicizzando questo film perché è un riassunto, un succo diciamo di questa storia che poi la gente quando vedrà si rende racconto perché è un film drammatico è una storia che colpisce soprattutto le famiglie che colpisce i bambini perché c'è di mezzo anche un orfanotrofio bambini che comunque sono soli senza genitori è l'esempio anche di mio figlio nel film che comunque sarà restituito a sua madre dopo che ha passato una ecco un'infanzia non piacevole perché lui è stato in carcere per tre anni con la mamma dopo tre anni la mamma viene scarcerata il bambino poi lo consegnano all'orfanotrofio si può capire benissimo che la storia non è delle migliori insomma che immagine della chiesa viene fuori da questo film? che immagine della chiesa? questa è ci siamo chiesti ti sono sincero anche con Carlo ho detto ma che segno diamo alla chiesa ai sacerdoti e quant'altro allora noi l'undici di questo mese sarà proiettato sembra strano ma vero il vescovo di Gravina ha accettato il nostro invito di fare una proiezione su Gravina nell'area vescovile se non erro pensavamo il contrario invece no ci hanno fatto anche i complimenti perché loro ammettono che in realtà anche i preti i sacerdoti sbagliano cioè anche in realtà comunque loro hanno preso visione di questo ma non ci hanno colpito non ci hanno hanno messo due cose separate l'essere umano i sacerdoti e la chiesa anche nella chiesa si può sbagliare e ci hanno fatto i complimenti su questo ma c'è anche perché voglio dire poi si va a tratteggiare il segno dell'umanità infatti infatti di un sacerdote un sacerdote infatti in questa esperienza poi parliamo della promozione del film qual è la cosa che ti ha colpito di più il ricollo l'aneddoto allora quello che mi ha colpito di più in questo film è stato durante le riprese cioè quello voglio dire se dovessi raccontare a qualcuno una cosa di questo film il momento di aver celebrato la messa con i fedeli di Oronzo in quel momento mi sono sentito qualcosa dentro di molto importante cioè mi sentivo un sacerdote in quel momento non mi sembrava che fosse una recitazione interpretare il ruolo ma sentivo qualcosa di forte dentro sembrava tutto mio sembrava tutto vero sembrava tutto ecco al di là di tutto il resto delle scene che abbiamo girato tra Gravina tra Casa Massima ecco in questo momento qui è stato un momento molto molto toccante toccante da provare insomma da provare non è da tutti è stato molto bello questa è una scena che mi ha colpito tantissimo ripeto questo spirito di immedesimazione immedesimazione sì sì infatti infatti beh in realtà è molto particolare anche perché diciamo poi di solito il lavoro dell'attore è proprio quello di trovare la capacità di immedesimare se il fatto sia venuto così naturale io quando mi guardo le altre situazioni sitcom che ho fatto ho realizzato tempo fa e dico questo è un personaggio Sabino che può interpretare dal drammatico ironico al sitcom e quant'altro vuol dire che c'è da lavorarci ancora su infatti ho intrapreso una scuola di recitazione di doppiaggio che vorrei salutare i my tutor se così lo possiamo definire Maria Teresa Bassalli che è una grande professionista è con lei che comunque ci sta portando un programma avanti di edizione di doppiaggio di recitazione che comunque sta avendo un ottimo risultato prima parlavi di doppiaggio perché state facendo delle esperienze di... sì stiamo doppiando di film non immaginavo che fosse una situazione importante doppiare i film non è facile guardare dei personaggi importanti con la tua voce a livello anche mondiale con la tua voce ti senti orgoglioso dico sono arrivato anche qui evidentemente la mia voce piace loro poi si impara tanto c'è dalla dizione dalla postazione che esperienza è il doppiaggio? beh guarda il doppiaggio è un'esperienza del tutto particolare perché funziona così loro ti buttano in questa cabina questa cabina chiusa con luci soffuse con il leggio con quando si doppia un film si chiama anelli cioè anelli parte per parte di film vengono tutti spezzettati e in base al tuo ruolo in base alla tua voce e quant'altro loro ti ti danno la parte dell'anello c'è questo monito monitor di fronte a te e devi medesimarti nel personaggio anche il respiro i movimenti la cosa che quando ti vedi perché loro ti registrano anche quando ti vedi ti sembra tutto assurdo ecco questa cuffia questo microfono hai tutti i movimenti che rispetta e rispecchia il personaggio e dovresti darci sopra il movimento labiale è tutto cronometrato cioè è una cosa molto molto pazienza però devo dire che è divertente molto bella che esperienze hai fatto fino a ora di doppiaggio di doppiaggio no questo sono un po' di mesi che comunque sto frequentando però mi ci hanno buttato dentro questa cabina perché ecco Maria Teresa mi diceva al mio tutor tu sei all'altezza di fare questo ma ho detto prima vorrei no no vai tranquillo infatti loro hanno doppiato il Signore degli Anelli per far capire un po' su che tipologia di professionalità stiamo e adesso stiamo doppiando un film che loro non vogliono che lo si dica ancora perché insomma sono cose riservate fin quando non vengono firmati i diritti d'autore eccetera eccetera però sono dei film molto importanti mi ci trovo anche in questa avventura e lì su questo nuovo film c'hai un personaggio eh sì c'è un personaggio che non posso dire purtroppo loro ci vietano a dirlo guai guai se guai non posso sì ho un ruolo molto importante in questo film è un film molto conosciuto e stiamo doppiando e quando finirà nel cinema? eh non si sa adesso c'è uno stage molto importante con questi artisti che verranno da fuori e mi sembra il prossimo mese c'è questo incontro e non ce lo dicono nella proiezione non ce lo dicono ancora torniamo alla proiezione invece del film poi torniamo a questa storia di doppiaggio eccetera torniamo invece al prete e il bambino dicevamo prima che state lavorando adesso sulla promozione il film è fatto ora bisogna farlo vedere o bisogna venderlo bisogna bisogna fare in modo che la gente lo vede eh sì lo stiamo pubblicizzando a largo raggio e non è facile perché abbiamo anche bisogno di sostegno da parte di emittenti come voi grazie anche a voi come te Giuseppe e poi se posso lanciare un ringraziamento al comune di Andria al comune di Andria che ha voluto omaggiare una proiezione ad Andria al Cinemars la data non si sa mi sa dovrebbe essere dal 13 al 18 di questo mese però c'è ancora il giorno da stabilire e da confermare con ingresso gratis perciò invitiamo tutti i cittadini tutti gli amici di Andria di Mitrofi e quant'altro di approfittare di questo ingresso omaggio io vorrei ringraziare e poi come faranno a sapere quando c'è la proiezione allora l'assessore Nespoli che io ringrazio con la collaborazione di Francesco Lullo dottor Lullo e sicuramente penso che saranno anche dei manifesti oppure tramite emittenti cercheremo di inoltrare questa notizia ovunque saranno poi venduti DVD o a un circuito cinematografico cioè che circuito farà questo allora innanzitutto voglio precisare che questa è una promozione non a scopo di lucro è stato questo è infatti molto importante ed è un piccolo perno che comunque Carlo Stragapede provvederà a lui personalmente non entriamo in merito non vogliamo promuovere questo film e farlo conoscere in giro al momento poi non so se sarà distribuito o quant'altro questo è un accordo che Carlo con la gazzetta eccetera stanno provvedendo che impressione ti ha fatto guardare questo film e vederti attore bella domanda questa non ci credo ancora Giuseppe credimi veramente non ci credo ancora e sta rispondendo bene in giro anche di altre interviste che ho fatto gente comunque abbiamo proiettato il film il 18 di gennaio al Cinema Roy qui alla Bari dove hanno partecipato tantissime persone i complimenti comunque sono stati tutti positivi tutti positivi credi che il prete 2 quindi ci realizzerà sì assolutamente assolutamente Carlo con il suo lavoro è sempre sai benissimo il vostro lavoro è sempre si è sempre impegnato imprevedibile imprevedibile lui ragazzi come facciamo io non ho te non ti preoccupare l'abbiamo preso noi in carica questa questa questo impegno più che altro che porteremo al termine adesso pensiamo a pubblicizzare più non posso il prete 1 questo qui stiamo parlando e poi sul prete 2 sicuramente tra qualche mesetto cominceremo a lavorarci su cosa vedi nel tuo futuro come non voglio illudermi Giuseppe però la massima visibilità ed essere premiato per quello che sono per i miei impegni che sono anni che insomma ognuno di noi sogna qualcosa di bello nella vita di avere un pizzico di fortuna di visibilità di essere ripagato per tutto quello che sto facendo per questo continui a studiare sì assolutamente dicevi prima il corso per la edizione per il doppiaggio ma anche sotto l'aspetto della recitazione soprattutto sì dove? a Bari adesso lo sto facendo a Bari ripeto da Maria Teresa Vasalli e con tutto il cast di professionisti sono parecchi tutor che insomma ci seguono e sono veramente di alta professionalità professionisti al massimo credi loro che cosa diresti a un ragazzino che sogna di fare l'attore? non è facile però bisogna crederci la gente da casa o chi magari piace la tv il cinema vede tutto bello io a chi vuole fare giornalista gli dico fai un altro mestino infatti io vedevo anche Carlo Stragapede quando chiedo che bel lavoro che fai sono stato ospite un po' di giorni fa sulla gazzetta che è un mondo veramente a sé a parte è una cosa mai visto mi sembra di stare in America e io chiedo che bel lavoro che fai e ti senti fai un altro lavoro che è meglio ma come non è tuttoro ciò che luccica bello sì dal punto di vista visuale e quant'altro però devi starci dentro noi abbiamo girato giorno e notte col caldo col freddo con la pioggia con la neve o con diciamo in altre situazioni noi abbiamo girato sto film che era d'estate era luglio se non erro e faceva un caldo girare col caldo stare seduti per terra mangiarsi il panino la bottiglietta dell'acqua oppure il ritardo non è facile dai ragazzi non è facile grazie a Sabino Matera complimenti per il prete il bambino grazie per aver accettato il nostro invito in bocca al lupo per la promozione di questo film per la tua carriera e per la realizzazione anche del prossimo lungometraggio grazie per aver accettato il nostro invito e grazie a voi che ci avete seguito container